Bertone sindaco o Zonta sindaco in rigoroso ordine alfabetico, lunedì prossimo la cittadina di Rossano Veneto sceglierà il suo prossimo primo cittadino chiamando gli elettori alle orne, come praticamente in quasi tutti i comuni di analoghe dimensioni, con i suoi circa 8.000 abitanti, anche qui si parla di liste civiche a duello di colpi di matita, con due ex colleghi di giunta a schierarsi per una sorta di pallottaggio assicurato dalle sole due candidature ufficiali. La contesa sarà nel fine settimana tra Davide Bertone, prima Rossano nel logo e Marco Zonta, Rossano 2023-2028, con il secondo citato ad esprimersi come candidato della continuità nella gestione del paese sindaco uscente eletto nel 2018 e Morena Martini di area centrodestra storicamente legata a Forza Italia e poi alla Lega nel doppio mandato. Rossano è uno dei dieci comuni dei Vicentini in cui la cittadinanza dai 18 anni in poi è chiamata ai seggi, al voto in 7.236.